Ti senti meglio? Sto provando da sottolineare una cosa qui al momento Ehi Flora, potresti passare con la chiave che sta lì Ti sembra un forza stupido assistente? Per favore Sì, sicuro, sicuro, come vuoi Fred, vai a ritirare la stupida chiave Grazie Ok, è fatto Speriamo che funzioni questa volta Aspetta, speriamo? Questa volta? Queste volte ti hai provato a fare questa cosa? Deguiamo centinaia di volte Ma se quel magneto ha fatto tornare indietro da sola Sono sicuro di poter riportare indietro anche lui Dovresti chiudere gli occhi Impossibile Come la Ehm Ehi l'ho Ehi l'ho Ti sono mancato Evitiamo gli scherzi per ora Abbiamo un problema al momento E il Toyota potrebbe darci una mano Le vostre battute sono disgustose Ehi, che ti prendi ragazzino? Oh Non preoccuparti, piccolo umano Non ho alcuna intenzione di ferirti Quindi hai un favore di chiederti Tu sai dove sono le armi umane, giusto? Portali qui, per favore Molto bene Andiamo Ecco Cosa? Vi fidate di me? Diciamo di sì In ogni caso tu sarai molto più utile con queste Ehm Ti odio ancora Certo, perché no? Così prevedibili Eh Non far ridere tutto ciò? Se pensate di avere una chance di vittoria Io ho una piccola sorpresa anch'io Ricordate queste Cosa sono queste? Non avete mai usato tutta la determinazione che avete sprestato in passato E sono eccitata di vedere quanto il luogo è sopravvissuto Fatevi sotto Ho sicuro di tenere bloccato quel bottone, G E tenere sicuro della cazzino Quattro Phe No aspetta qui 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 te lo meriti aspetta qui 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 aspetta qui